Il nuovo casello di raccordo tra la Statale 268 e l'A3 Napoli-Salerno sarà inaugurato entro metà luglio ad assicurarlo il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania. L'apertura è prevista per luglio, quindi noi confidiamo per metà luglio di fare questa inaugurazione molto importante. Il nuovo casello di raccordo tra la 268 e l'autostrada Salerno-Napoli, tenendo presente che la Regione ha finanziato ulteriori 200 milioni di euro per l'allargamento di tutta la 268 anche nei tratti dove in questo momento è due corsie. Avremo un nuovo snodo che raccoglie appunto Sant'Antonio, Scafati, Angri, tutto nello stesso punto. Purtroppo sono stati persi mesi importanti per questa convenzione tra ANAS e SAM che non è andata avanti. Abbiamo dato una mano al Ministero per cercare di trovare una sintesi. Adesso finalmente i lavori sono ripartiti e sono in dirittura di arrivo. È in costruzione il casello, bisogna fare gli ultimi collegamenti delle rampe. Siamo veramente alle battute finali. Sono in fase di realizzazione anche l'impianto di illuminazione sia dello svincolo sia della stazione di esazione nonché il completamento dei tratti terminali delle rampe di raccordo con l'autostrada, un'opera strategica che consentirà di liberare le città dal traffico pesante. Intanto Luca Cascone incalza l'amministrazione comunale di Sant'Egidio del Monte Albino affinché siano avviati i lavori per la rampa di accesso dell'autostrada A3 in direzione nord Angri-Sant'Egidio del Monte Albino. Questa è un'opera strategica per deviare il traffico pesante che attualmente tra le altre cose affoga le città, in particolare quella di Angri. Ora questo insieme di opere, questo insieme di raccordi andrebbe completato con lo svincolo in direzione nord della nuova rampa di Angri che poi si realizza nel Comune di Sant'Egidio. Purtroppo stiamo denunciando questo ritardo da tempo, il finanziamento è arrivato ma non sappiamo perché la gara non è ancora stata fatta.